Storia della razza. Durante la creazione della razza, hanno usato come base i Fox Terrier a pelo liscio, esportati nel XVII gradi secolo dai Paesi Bassi a Nagasaki, Manchester Terrier in miniatura e levrieri italiani, incrociati con piccoli cani aborigini, di cui ora si sa poco. Tuttavia, ci sono altre versioni dell'origine della razza. Un tempo questo cane era conosciuto con i nomi di Mikado Terrier, giapponese Fox Terrier, Kobe Terrier e Shortire Terrier. L'allevamento pianificato iniziato intorno al 1900 ha permesso di migliorare la razza nel 1930, e il club di razza, fondato nel 1932, ha sviluppato il suo standard allo stesso tempo. La prima pubblicazione sulla razza, che ne descrive l'origine, risale al 1938. Il primo aprile 1964, il Terrier giapponese viene ufficialmente riconosciuto dalla Federation Kinologique Internationale e appartiene al gruppo dei Terrier, e alla sezione dei Small Terrier. La razza è riconosciuta anche dal Kennel Club nazionale. I Terrier giapponesi sono sopravvissuti principalmente come cani da compagnia a Kobe, Yokohama e in altre città portuali. Una razza di cani da caccia scavatori, allevata in Giappone nel XVIII secolo incrociando fox terrier a pelo liscio, importati dall'Inghilterra, con alcune razze locali. Attualmente, questi cani hanno guadagnato popolarità nel paese del sollevante come compagni. Sono animali divertenti, divertenti, giocosi, amichevoli e vanno d'accordo con i bambini. Pericoloso per roditori e gatti domestici, necessita di controllo. Punti salienti e fatti interessanti. Terrier giapponese è stato ammesso alla Fondazione Stock Service nell'ottobre 2020. I Terrier giapponesi sono l'unica razza terrier originaria del Giappone. Un altro nome per i terrier giapponesi è Nionteria. I terrier giapponesi catturavano i topi sulle navi mercantili. Il terrier giapponese è una razza estremamente rara, con pochi allevatori al mondo. Terrier giapponese è una miscela di terrier e razze primitive, che lo rende la scelta migliore per i proprietari di cani esperti. Aspetto? Il terrier giapponese è un cane di forma quadrata ben equilibrata, il più delle volte con la testa nera con un corpo prevalentemente bianco con piccole macchie nere. È alto da 20 a 33 centimetri e pesa da 2 a 4 kg, le sue orecchie sono attaccate alte e ricurve in avanti, e il suo pelo è corto, liscio e sottile. Il pelo è molto corto, lungo circa 2 mm, liscio, folto, lucido e vellutato. Ciò semplifica notevolmente la cura di lei, ma rende il cane suscettibile al freddo. Il colore è tricolore, la testa è nero-bianco-rossiccia, il corpo è bianco con macchie nere, con macchie nere o macchie bruno-rossastre. Tratti distintivi del carattere. Terrier giapponese è stato allevato come compagno, è un cane empatico, amichevole, veloce, energico e molto sveglio, è cauto, circospetto e un po' timido. Non tollera trattamenti fisici rudi e frequenti alzate di voce. Non si abitua immediatamente agli estranei. Nonostante le sue piccole dimensioni, è un ottimo cane da guardia, anche durante il sonno profondo è in grado di rispondere al minimo rumore. Può essere utilizzato anche come cacciatore di topi e cane da caccia. Un ottimo animale domestico di famiglia, va d'accordo con i bambini, tuttavia è pericoloso per gatti domestici e roditori e quindi ha bisogno di controllo. Non schizzinoso per un sacco di esercizio. Manutenzione e cura. Terrier giapponese prospererà con cibo per cani di qualità. Qualsiasi dieta dovrebbe essere appropriata per l'età del cane. Alcuni cani tendono ad essere in sovrappeso, quindi tieni d'occhio l'apporto calorico e il livello di peso del tuo cane. I dolcetti possono essere un importante aiuto per l'esercizio, ma troppi possono causare obesità. Rivolgiti al tuo veterinario, se hai dubbi sul peso, o sulla salute del tuo cane. L'acqua pulita e fresca dovrebbe essere sempre nella ciotola. Il pelo corto ed elegante del terrier giapponese richiede una cura minima. La spazzolatura settimanale con una spazzola morbida o un guanto per cani, manterrà il suo pelo sano e lucente e dovrebbe essere lavato solo se necessario. Le sue orecchie dovrebbero essere controllate regolarmente per la sporcizia o l'accumulo di cerume in eccesso e pulite con una garza morbida e una soluzione per la pulizia delle orecchie, se necessario. Le unghie devono essere tagliate frequentemente per mantenerle corte e pulite, poiché unghie troppo lunghe possono causare disagio al cane. Se possibile, i denti dovrebbero essere lavati quotidianamente con un dentifricio formulato per cani. I terrier giapponesi hanno un moderato bisogno di esercizio. Hanno bisogno di un paio di belle passeggiate o attività quotidiane nel cortile recintato ogni giorno per mantenerlo mentalmente e fisicamente sano. A loro piace essere attivi, ma sono anche felici di rannicchiarsi sul divano accanto al loro ospite. Grazie alla loro elevata addestrabilità e versatilità, possono svolgere bene una vasta gamma di attività canine come le gare di obbedienza, rally e agiliti. Terrier giapponese è estremamente intelligente e addestrabile, anche se a volte alcuni possono essere testardi. A causa della loro elevata indipendenza, l'apprendimento dovrebbe essere iniziato presto. Le prime lezioni di socializzazione e addestramento dei cuccioli con un apprendimento positivo basato sulla ricompensa con aggiustamenti morbidi ma fermi sono altamente raccomandati. Si raccomanda anche un addestratore esperto di terriere esperto di razze primitive. È meglio tenerli in un cortile recintato o al guinzaglio, in quanto possono scappare. Sebbene siano una delle razze di terrier più calme, sono comunque cani ad alta energia che richiedono esercizio fisico e mentale. Salute. I terrier giapponesi sono generalmente cani sani e gli allevatori responsabili controllano le loro mandrie per condizioni come la lusazione della rotula e la malattia di leg calvepertes. I loro denti dovrebbero essere lavati frequentemente usando un dentifricio fatto per cani. Visite veterinarie regolari per controlli e controllo dei parassiti aiutano a garantire una vita lunga e sana per il tuo cane. Prezzo e come acquistare correttamente. Il prezzo medio per un cucciolo è di 700 dollari. Linea di fondo. Il terrier giapponese è una razza di cani allevata in Giappone, molto rara anche nella sua terra d'origine, dove si trovano da mille a un migliaio e mezzo di individui, mentre fuori dal paese se ne contano circa 200. I terrier giapponesi sono una razza piccola e molto intelligente. Sono indipendenti, attivi, allegri e vivi. I vigili terrier giapponesi sentiranno il minimo rumore e avvertiranno qualsiasi estraneo. Come un terrier sportivo e un cane versatile e orientato all'apprendimento, ha un eccellente atletismo e un istinto innato.